Grazie 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 Perché non respira nemmeno Può andare anche per le altre A me c'era Oggi la useria è unanime Si sapeva anche dell'arte Fa tutte le stesse cose Eccolo E' un po' Ma non si stai Ma non si stai Ma non si stai Non si stai Non si stai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.